Nel silenzio della preghiera Gesù ci fa vedere se stiamo lavorando come buoni operai o se siamo diventati un po' degli impiegati, se siamo dei canali aperti, generosi, attraverso cui scorre l'amore di Dio, o se invece mettiamo al centro noi stessi e così al posto di essere canali diventiamo schermi che non aiutano l'incontro con il Signore, con la luce e la forza del Vangelo. Lo ha detto Papa Francesco ai sacerdoti della diocesi di Cassano a Lionio incontrati nella cattedrale della città calabrese. Con loro il Papa ha voluto prima di tutto condividere la gioia di essere preti, di essere chiamati dal Signore e di portare agli altri Lui, la sua parola e il suo perdono. Poi la bellezza della fraternità, dell'essere preti insieme per reagire ad un certo individualismo pastorale. La scelta della fraternità sacerdotale ha chiarito ha bisogno di forme concrete, adeguate ai tempi e alla realtà del territorio. Infine il Pontefice ha incoraggiato i sacerdoti a stare vicini alle famiglie in questo tempo di crisi, ad essere mediatori della vicinanza di Dio alle famiglie. Prima dell'incontro in cattedrale Papa Francesco, appena arrivato a Cassano a Lionio, ha visitato i malati assistiti nell'ospis San Giuseppe Moscati, centro per le cure palliative. Grazie a tutti.